Doriano e Jessica, eccoli qua! Anche loro hanno partecipato a questa nostra lunga avventura in attesa sull'arca, allora, sull'arca, tacca, sì, è spento! Anche lui è uno di quelli che non ha ancora capito il microfono, allora ti devo spiegare, il microfono ha un interruttore, c'è scritto, on, ho iniziato, off, ho finito, mettono sull'on! On, ho iniziato, ho iniziato, va bene! Off, ho finito, ho iniziato, va bene! Allora, lui è un saxofonista, nasce come me saxofonista, che per motivi tecnici ci siamo dilettati anche al bassotuba cantichiare qualcosa, però suoneremo un brano, suonerà un brano alla romagnola, si può dire? Un grande brano alla romagnola, ricordandovi la nostra gita dal 6 al 13 di settembre a Gatteo Mare per la settimana del liscio, con grandi, grandissimi ospiti. Sei pronto? Ha detto così che se non gli fate l'applauso non parte! L'applauso non parte! Signori Torriano, iso a magico sax? Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Allora vogliamo sentire gli applausi, curva sinistra, centrale, destra, curva sinistra, centrale, destra! Non ci siamo, non ci siamo, riproviamo, curva sinistra! A uno a dieci, sei, 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 curva centrale! Ma ci siamo, non ci siamo! Curva destra! Tutte le curve al centro Senti che roba, Doriano Tutte le curve al centro L'urlo finale, Doriano Doriano è il suo magico Sasson Bravo, 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 bravo Ce l'hai ancora fiato? Bene, allora cantiamo